Ciao a tutti in questo video parleremo di Notion e nello specifico andremo a parlare delle pagine. Le pagine sono proprio la base fondamentale di questo programma. Questo è il secondo video su Notion. Se non hai visto il primo valla a guardare, è una semplice overview che spiega a che cosa serve lo strumento, a chi serve eccetera eccetera, mentre qua entraremo proprio nella dashboard e cercheremo di capire che cosa sono le pagine. Se ti interessano Notion, se ti interessano gli strumenti di digital marketing, ti invito a iscriverti al canale e alle varie community. Metto tutti i link in descrizione così potrai trovarli facilmente. Adesso non ci resta altro che entrare nella dashboard di Notion e vedere che cosa sono le pagine e come crearle e a che cosa servono. ed eccoci qua all'interno della dashboard di Notion. Come potete vedere siamo già all'interno di una pagina e una pagina può avere veramente tanti moduli e tanti oggetti, tanti contenuti. Ma cerchiamo di partire da zero e creiamo una pagina da zero e capiamo proprio che cosa sono le pagine per creare una pagina. Basta cliccare qua sul tasto Add e Page e come vedete si creerà una pagina vuota, completamente vuota. La prima cosa che dobbiamo fare sicuramente è inserire un titolo. Possiamo chiamarla pagina di esempio, un nome molto originale e come potete vedere si può inserire una pagina vuota con icona, una pagina vuota, si può inserire un template o importare. Vediamo velocemente che cosa sono i template. Cliccando qua Notion ci dà la possibilità di scegliere delle pagine già con del contenuto che possono servire a diverse cose. Qua ci sono diverse categorie e potete guardarle per prendere ispirazione, per anche copiare dei moduli, insomma per vedere proprio come funzionano le varie pagine che come vedete possono essere molto diverse una tra loro. Si possono importare da altri strumenti i contenuti o si possono creare da zero. In questo caso iniziamo creando da zero. Per prima cosa, oltre al titolo, si può aggiungere un'icona. Andiamo a vedere. La prima cosa che succede è che Notion andrà a inserire un'icona random, ma possiamo ovviamente cambiarla, inserire un emoji, caricare un'immagine o caricare un'immagine da link. Possiamo anche dire a Notion di caricarne una random. Per esempio qua ha scelto il telescopio, possiamo anche tenerlo e come vedete oltre ad essere qui l'icona sarà anche visibile qua, dove possiamo navigare tra tutte le pagine. Un'altra cosa che si può fare è aggiungere una cover. Una cover è un'immagine, ecco, che sta sopra tutte le altre cose. Anche qua è andata a inserirne una random che tra l'altro è molto correlata con la nostra icona, ma si può cambiare la cover scegliendo colori o immagini, caricandola dal nostro device o inserendo un link. Qua c'è anche la possibilità di inserirla da Unsplash. Comunque possiamo ottenere questa immagine e possiamo anche riposizionarla. Perfetto. A questo punto possiamo inserire il nostro contenuto all'interno della pagina. Cliccando sullo Slash possiamo inserire diversi blocchi. Come vedete ce ne sono a disposizione davvero tanti. Alcuni li vedremo nei prossimi video, altri, quelli più semplici, sono diciamo il testo, il titolo, le immagini, eccetera, e possiamo vederli. Per esempio inserendo un titolo avremo appunto il nostro titolo. Inserendo un qualsiasi testo vediamo che si creano dei blocchi differenti con titolo testo. Ovviamente possiamo aggiungere immagini, video a nostro piacimento. A questo punto una cosa da dire è che si possono anche cambiare i font, ma non è che possiamo scegliere fra moltissimi font, ma fra tre tipologie, quindi quello di default, il serif, un po' più old school, un po' più carta stampata e il mono. A me questo piace molto, è un po' più da coding, diciamo da app appunto di note. Notion nasce come un'app di note, quindi a me piace, mi sembra carino. Possiamo inserire testo piccolo o no e possiamo anche fare le pagine a larghezza intera. La larghezza intera è molto utile se decidiamo di usare un layout a più colonne. Per andare a creare più colonne è molto semplice, lo vedremo magari anche in video successivi. Adesso Notion da pochi giorni ha rilasciato proprio la possibilità di aggiungere colonne, ma si può anche per esempio creare un testo e andarle a trascinare al lato, quindi qua e si creerà un'altra colonna. A questo punto possiamo anche fare ulteriori personalizzazioni andando sempre sui tre puntini e cliccando su Customize Page. Possiamo mostrare o meno i backlink, le discussioni e i commenti. Un'altra cosa importante da sapere delle pagine è che sono create in maniera gerarchica, quindi noi possiamo creare delle pagine e delle sottopagine. Per esempio andando a cliccare sul più di fianco alla nostra pagina, andremo a creare un'altra pagina interna, quindi pagina interna la creiamo, qua possiamo guardarla come full page ad esempio e come vediamo è andata a inserirsi al di sotto della prima pagina. Inseriamo un'icona anche qua per riconoscerla, magari inseriamo un ciclista che non c'entra nulla, ma però ci piace e una cosa che notiamo è che quando andiamo a inserire una pagina interna nella pagina principale comparirà il link alla pagina interna. Cliccando cambierà subito e andremo a navigare la pagina interna. Questo si può fare più volte anche all'interno di pagine interne, quindi andando a creare una vera e propria gerarchia. Pagina 3, guardiamola, inseriamo anche qua un'icona, il sole va bene e quindi che cosa succede? Avremo la prima pagina che linka alla pagina interna, la pagina interna che linka alla pagina 3. Un'altra cosa importante da dire è che all'interno di Notion quasi tutto è una pagina, infatti anche gli elementi di un database sono una pagina. Per guardare questa cosa magari vediamo appunto il template dei Lifetime Deals Tracker. Come vediamo qua c'è un database, magari se è la prima volta che vedi Notion ti sembrerà poco chiaro, ma in realtà poi è abbastanza semplice. Cliccando sull'oggetto del database vediamo che si apre come pagina. è una vera e propria pagina nella quale poi possiamo inserire tutti i nostri dati, tutto quello che ci interessa. Per quanto riguarda le pagine all'interno di Notion direi che è più o meno tutto. Spero che questo video ti sia utile, spero che ti serva per approcciare Notion che è uno strumento davvero flessibile, davvero utile e se ti è piaciuto questo video e ti va, lascia pure un like, ci vediamo al prossimo tool. Ciao!